E adesso campo per Carlo Fumagalli, recentemente rientrato dopo un lungo stop per l'infortunio ultimi 6 secondi per l'attacco, in palleggio contro quella che mi sembra una zona adesso da parte di Scappati, attacca Fumagalli, scarico per il tiro di Taylor sulla sirena, da 3 avversario Pepper, meno 7 palle in mano, Yeti può davvero avvicinarsi sensibilmente adesso Taylor parte dall'angolo contro Cucci, lo sfida frontalmente Attacca mettendo palla a terra, lavora sul piede perno, tiene bene Cucci, tripla di Fumagalli Meno 4 Rieti Tutto il campo di Pepper, vediamo come risponde adesso Rieti Pepper vuole attaccare lo sap, cerca di arrivare al ferro, si riesce Rieti torna a meno 4 seguito NPC rimessa di Pepper per Sanguinetti contro Musso con 5 secondi Duoco di Taylor, Sanguinetti attacca Benvenuti, va al ferro Fuccando la difesa di Scappati, chiude alla grana 19.7 di media della Supercoppa tripla di Sanguinetti Torna a più 3 Scappati, Tommasini palleggia, fa nell'angolo ad armare la mano di Fumagalli Per il pareggio a Versailles Sanguinetti può provare ad accelerare, torna da De Laurenti, spalla restituita al playmaker con il numero 5 Che va da Ponziani, di tocco per De Laurenti Ottimo lavoro di squadra di Apertura di Laurenti, di tocco per Sanguinetti che attacca l'area Va ancora da De Laurenti, ottimo lavoro di Sanguinetti Mette a meno 2 Tommasini blocco di De Laurenti, Tommasini si ferma, poi riparte Esitazione verso il ferro, gran giocata di Tommasini Smezzo, chiude il palleggio, va da Tommasini contro Tommaso Marino Lo attacca Tommasini, aiuto di Cucci, di Laurenti con spazio Il suo jumper, ripalza sul ferro e dintra